andando verso di lì direi non male come prospettiva primo tratto prova di velo 1.30 rifugio Ciampedie si parte con lo strodo del tour andiamo via Ciampedie o Negritella o perché no entrambi prima tappa cosa manca su questo tavolo se ho qua da un ritro che verrai solo tu chiamasi tour e finestra siamo usciti da lì diciamo che è stato interessante per oggi brividi fatti ok eccoci qua quasi Paolina dopo un inciampo su un sentiero alto inesistente bene ma non benissimo tra poco strudel ci accingiamo a fare la ferrata ce l'abbiamo iniziata però non ci ha neanche attaccati tanto però ora inizia la vera ferrata al passo tra poco siamo carichi secondo strudel non eccitantissimo devo dire non ci stanno eccitando speriamo che scavallato di là ci sorprendano non ci stanno eccitando insalata in alta cuore 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 se fosse caldo non trova eh l'aspettavo post colloquio